Ciao, siamo qua al Terra Madre, al Salone del Gusto 2024, siamo qua come Salone del Vino di Torino per fare che cosa? Innanzitutto giovedì per incominciare a raccontare le potenzialità di un grande vitigno dell'erbaluce e delle sue potenzialità di invecchiamento, lo facciamo insieme all'Ais Piemonte in collaborazione con l'Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino e il Consorzio dell'erbaluce. Venerdì andiamo invece a studiare e a degustare due grandi vitigni, il Freisa e il Nebbiolo, insieme alla Fisario di Torino e insieme al Consorzio della Freisa per conoscere le analogie tra questi due grandi vitigni e in sabato andiamo ad approfondire i vini della provincia di Torino, in particolare della Valsusa, quindi vini eroici, vini di montagna, in collaborazione sempre con il Consorzio. Quindi tre momenti di approfondimento per scoprire alcune cose particolari sui vitigni vicini a noi e non solo in questa meravigliosa tre giorni di Slow Food.